Bene, ciao leggini, buongiorno e benvenuti a questo nuovo video. È un video che mi fa tanto piacere fare perché mi piace parlarvi di questa nuova figura che è il tarot coach. Il tarot coaching è un nuovo modo, molto evoluto, molto nuovo, molto all'avanguardia di leggere i tarocchi. Questo non vuol dire che gli altri metodi siano sbagliati, siano de mode o non vadano più bene, vanno sempre bene. È solo un nuovo modo, un nuovo modo che sta nascendo anche oltreoceano, anche in Europa, di mixare la lettura dei tarocchi con dei consigli, con dei consigli che siano di coaching, quindi di suggerimento su come affrontare la vita, eccetera. Questa nuova figura si può tranquillamente unire alle vostre precedenti esperienze, quindi che tu sia una cartomante, che tu sia una lettrice di carte, che tu sia una tarologa, che tu sia una lettrice di tarocchi angelici. va bene uguale, perché la parte nuova è quella delle domande che si vanno a porre ai tarocchi e della fiducia che si instaura tra te e il consultante nell'aiutare, e nell'aiutare il consultante o la consultante ad affrontare determinate questioni della vita. Il tarot coaching è, diciamo, un'esperienza molto bella. Se tu ami i tarocchi, già lavori con i tarocchi perché necessita un'esperienza, una conoscenza di base dei tarocchi. Se già li usi come guida preziosa per te e per gli altri, se vuoi comunque accrescere la tua professionalità, il tuo lavoro come lettrice di carte, come tarologa, come cartomante, eccetera, e vuoi dargli un taglio più, appassami il termine, comunque un approccio più psicologico, più d'aiuto motivazionale, allora questa strada può essere indicata per te. È una competenza in più, ripeto, non cancella quello che già conoscete, ma è una qualcosa in più che potete offrire. Si usano gli arcani come strumento di saggezza e di consiglio. Praticamente si usano delle schede in particolare, pensate in un certo modo, per aiutare le persone a raggiungere degli obiettivi. È un'esperienza molto, 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 molto bella. Ci si focalizza su delle determinate domande, quindi qual è lo scopo della vita, come lo posso raggiungere, qual è il lavoro giusto per me, quali sono i passi da fare, come posso fare carriera all'interno del lavoro che ho, come posso dare vita alla storia che vivo, quali passi posso fare per far funzionare una storia, oppure ho sofferto in amore, quali passi devo fare per guarire e aprirmi a una storia seria. Quando si lavora con il Tarot Coaching è necessario che il consultante diventi una parte attiva, quindi non può essere soltanto una persona che vuole dei consigli esterni, che di un futuro a cui non compartecipa alla creazione. Lavorare come Tarot Coach necessita che le due parti collaborino, quindi tu come Tarot Coach e il consultante come colui o colei che ha voglia di migliorare la propria vita, ha voglia di evolvere, di risolvere i propri problemi e di raggiungere gli obiettivi desiderati. Ovviamente un Tarot Coach, a meno che non lo siate per altri motivi, quindi se magari già siete dei coach o già siete degli psicologi, allora si integra perfettamente con le vostre precedenti competenze. In caso contrario invece riceverete nel Io ho creato un corso che può aiutare chi è interessato a questa strada e metto delle pillole di coaching e guido le persone a non affrontare determinati traumi, perché quello non siete in grado di farlo, nel senso che non siete dei terapeuti, ma siete dei consiglieri che attraverso l'aiuto dei tarocchi aiutano le persone a imparare a conoscersi meglio, a motivarsi per raggiungere degli obiettivi. Le schede, io ho creato proprio nel mio corso per aiutare chi vuole percorrere questa strada, delle schede. Sono 17 pdf con 17 metodi pensati per il Tarot Coaching, quindi proprio per aiutare una persona, per guidare il Tarot Coach a tenere delle sedute, delle sedute fatte in un certo modo, che vanno da una a tre sedute in cui si fa un cammino, si fa un cammino di evoluzione, un cammino di motivazione, un cammino per raggiungere ad un traguardo, ok? E ovviamente una parte bellissima è quella dell'auto coaching, perché? Perché quando fai auto coaching su di te, uno, sicuramente capirai meglio i metodi di lettura, capirai meglio quando e come utilizzarli, e due, perché chiaramente aiuterai anche te stesso e te stessa a raggiungere degli obiettivi. Per esempio, voglio lavorare con i tarocchi, però non so che possi fare, ok? Allora posso scegliere una determinata scheda per capire, grazie al saggio consiglio e guida dei tarocchi, quali sono i passi per raggiungere la mia meta. Ci sono tantissime schede e tantissime, è un videocorso il mio, quindi trovate 22 video in cui saranno affrontate delle tematiche, tra cui anche quella del dire alle persone della vostra famiglia che volete lavorare in questo, che volete lavorare con i tarocchi o che già ci lavorate, perché per molti è un problema dire ai propri cari, anche addirittura al proprio partner, che fanno questo tipo di lavoro. Altri video spiegano come tenere una seduta di coaching, quindi come fare da rimando, da riflesso alla persona che abbiamo davanti, come aiutare il consultante a tirar fuori quello di cui ha bisogno per migliorare, per raggiungere un goal. Queste schede, questo corso, il tarot coaching in generale, è molto bello perché è molto motivazionale e aiuta le persone ad avere un piano d'azione. E questo è fondamentale perché molte volte con la lettura dei tarocchi classici il tarocco prevede, indica un potenziale risultato, ma a volte non si hanno le tappe intermedie per raggiungerlo e quindi si rischia che questo risultato sfumi perché chiaramente non si sono compiute quelle azioni che erano il ponte tra il potenziale futuro e il punto di partenza. E in quel caso avere appunto delle capacità, avere degli strumenti per migliorare la propria vita, per renderla più piena, più appagante, più soddisfacente, sapere che i miei punti di forza in quelle situazioni sono, non so, il coraggio e gli amici, la famiglia che mi sostengono, invece i punti deboli possono essere i miei pensieri negativi o la mia sfiducia, la mia mancanza di autostima, mi aiuta a non abbattermi quando ho un pensiero negativo e magari so perché mi viene consigliato di rivolgermi ad un amico per distrarmi o per farmi tirare su di morale. Questo diciamo è un po' lo scopo del tarot coaching. È un modo di leggere i tarocchi copartecipato in cui sia il consultante che il lettore si aiutano, diciamo, a vicenda, nel senso che poi chi legge le carte le legge sicuramente meglio se ha una persona che collabora e che, diciamo, non è soltanto passiva, ma che è intenzionata ad aiutare il potenziale futuro previsto dai tarocchi a realizzarsi. Il consultante, dal canto suo, non subisce delle previsioni che non sa quando si realizzeranno, se si realizzeranno, come si realizzeranno, ma ha un piano interno d'azione per accompagnare questo futuro che va a realizzarsi. Io ho deciso, poi alla luce anche di tantissime richieste, perché è il mio modo di leggere i tarocchi ed è un modo molto nuovo che, infatti, ho appreso all'estero e che ho iniziato a praticare qua in Italia ed è tanto che ormai faccio sedute di tarot coaching. Però mi è stato chiesto, insomma, di condividere questa mia saggezza e quindi l'ho fatto diventare un corso. Un corso in videocorso, quindi nel momento in cui tu lo acquisti ti arriverà tutto il materiale, compreso l'attestato di partecipazione e rimarrà per sempre a tua disposizione. Verrai guidato su come comprendere, come guidare una seduta di tarot coaching, come svolgere una seduta, se dal vivo, al telefono, in videochiamata, come comprendere e conoscere il consultante, perché quello è importante, perché, come vi dicevo, si può instaurare addirittura un piccolo grande cammino da fare insieme. Nel corso io prevedo da una a tre sedute, perché tendenzialmente può bastare una se c'è un goal da voler raggiungere, per esempio, come ottenere quella promozione, oppure come ottenere quel lavoro, come riconquistare quella persona, come perdere peso, come fare una cosa che si vuole fare. Oppure fino a tre sedute, cioè facendo un primo incontro conoscitivo, un incontro di mezzo per vedere un po' la situazione, e l'ultima seduta, che è quella propositiva, quella con lasciare usare una delle schede che prevedono un piano d'azione, così che la persona possa poi andare a raggiungere la sua meta. Quindi aiuterai tu, il consultante che si rivolge a te, a trovare lo scopo della propria vita, a scoprire e valorizzare i propri doni, i propri talenti, a trovare il lavoro giusto, a realizzare i sogni nel cassetto, a vivere una relazione d'amore sana e felice, a superare i blocchi che ostacono la loro sua realizzazione, ad accrescere l'autostima, a diventare più sicuro in se stessi, insomma capirai di cosa ha bisogno, sceglierai lo schema giusto e lo applicherai, quindi anche tu verrai guidato passo passo. Deciderai tu, insomma, qual è il percorso giusto, perché crescerai tu come professionista, ma crescerà anche la persona a fianco a te, perché diventerà un utente attivo, un consultante attivo, quindi è un'esperienza molto emozionante e molto avvincente. E se vuoi saperne di più del corso ti metto il link, tanto poi là sul mio blog spiego tutto, e quello che voglio aggiungere è che questo nuovo modo di fare tarot, quindi di leggere i tarocchi, è estremamente interessante, estremamente appagante e arricchente, perché si danno attraverso i tarocchi, che sono appunto uno strumento antichissimo, attraverso cui passa la saggezza del divino, dei consigli davvero, davvero, davvero interessanti, che magari a te non sarebbero venuti in mente e neanche all'altra persona. Quindi ci mette un po' lo zampino l'universo. E facendoglielo fare nel modo giusto, vengono date delle possibilità, vengono date delle occasioni di sapere delle cose che altrimenti sfuggirebbero. Quindi è sicuramente un'esperienza arricchente sia per chi la fa che per chi la riceve. Quindi se siete curiosi, se volete saperne di più, io farò un video di un metodo di lettura inedito che ti consiglio, insomma, di vedere e che metterò poi nell'info box. E allo stesso tempo, se hai visto il T-Factor, il torneo di tarocchi, hai anche avuto modo di vedere come si svolgono alcune stese. Quindi anche lì abbiamo avuto modo di utilizzarlo ed è stato molto forte. Sono venute fuori cose molto, molto interessanti ed è anche una modalità di lavoro, quella del tarot coaching, che permette al consultante di accettare determinate verità che altrimenti non accetterebbe. È ovvio che è rivolto solo a quei consultanti che hanno voglia di collaborare con il lettore. Però da lettrice di Tarte e da Tarot Coach ti dico che alla fine, tanto se il consultante non collabora e vuole solo ricevere delle indicazioni, quelle fruttano fino ad un certo punto. È solo quando c'è collaborazione, quando c'è impegno, quando c'è volontà e forza di volontà che la guida divina passa attraverso i tarocchi e veramente porta dei risultati sul piano materiale. Quindi, grazie di avermi ascoltato fin qua. Ti chiedo se conosci e conoscevi questo modo di fare i tarocchi, quindi se già conoscevi il tarot coaching. se hai preso il mio corso fammi sapere se ti è piaciuto che sono curiosa e nulla. Trovi tutte le indicazioni nell'info box. Ti saluto e ti ringrazio. Se il video ti è piaciuto regalaci un like e se non sei iscritto al canale YouTube delle leggi della magia saluto subito. Ciao!